Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, ha partecipato all'inaugurazione della nuova palestra del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli a conclusione dei lavori di riqualificazione. Prisco, a margine, ha ribadito l'impegno del governo Meloni nel potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottolineando la rilevanza di dotare questo corpo, amato sia in Italia che all'estero, di uomini e mezzi adeguati per garantire il massimo supporto ai professionisti del suo corso. Con il potenziamento di oltre 1.700 unità di personale e la sostituzione di oltre 3.800 mezzi. Nella legge di bilancio sono stati stanziati circa 3 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali del comparto, compreso quello dei Vigili del Fuoco. Un potenziamento importante nella legge di bilancio del 2023, oltre 1.700 uomini, portando l'organico complessivo nazionale a oltre 40.000, che è il record storico in epoca repubblicana per il corpo nazionale. Ha avviato la più grande sostituzione di mezzi e strumentazioni in epoca repubblicana, con l'acquisto di oltre 3.700 mezzi, con il rinnovamento di 60 autoscale e 30 che saranno consegnate quest'anno, che sono, come sapete, il mezzo più imponente e più importante per il corpo nazionale. C'è un'attenzione particolare, un investimento su questo straordinario corpo che è orgoglio nazionale, ma che è soprattutto sentito come l'istituzione più amata dagli italiani. Ma più che al potenziamento, Renato Franceschelli, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, si sofferma sull'imminente turnover dovuto ai pensionamenti. I ruoli sono pieni, oggi siamo a poco meno di 40.000 persone, quindi è cresciuto. Il problema che riguarda il corpo dei Vigili e tutte le forze polizie è quello del turnover, perché gli anni 24, 25 e anche 26 sono gli anni in cui ci saranno grandi numeri di pensionamenti, che è per un fatto anagrafico, e quindi bisogna organizzarsi per riuscire a dare velocemente il rimpiazzo a quelli che lasciano il servizio. Grazie.